Metti una sera a cena, il famoso film di Patroni Griffi, era una storia tutta particolare da seguire. Quella di ieri sera, Vigile di San Valentino, è stata una vera e propria sera da pazzi, o meglio, la cena dei pazzi. La location della Lama Balice ha fatto da cornice ad una serata evento organizzata dalla Okiko The Drama Company che all'interno di una cena vera e propria con tanto di commensali hanno intrattenuto gli intervenuti con canti, balli e animazioni. Per farvi capire che cosa vi siete persi, li abbiamo intervistati. Stasera è la cena dei pazzi, tu sei pazzo? Abbastanza Pure io di te Oddio Va bene questa dichiarazione, i follower, sui nostri profili ricordiamo che noi siamo le Lally Kelly, ci potete trovare su All in Fans, su Twitter, oppure su Instagram, Facebook per i vecchi bontemponi. Due camerieri infiltrati in sala, quattro simpatiche ragazze, le Lally Kelly, un improbabile direttore artistico e un manager che hanno dato vita ad uno spettacolo coinvolgente e comico allo stesso tempo. È partito tutto da un voler stupire il pubblico, neanche con tanta intenzione di far comprendere appunto il nostro volere. Però, diciamo, quando poi incontri come il pubblico di stasera, un pubblico partecipativo che ha voglia di divertirsi, poi il tutto viene naturale. È stato quasi un esperimento sociale, quello di partire dal nulla per poi crescere sempre di più con un pizzico di follia, tra i tavoli, con la musica e appunto con il divertimento. La Okiko The Drama Company si sta preparando per un nuovo progetto teatrale, ma se volete partecipare anche voi a questa cena dei pazzi, si replica questa sera San Valentino alla Mabalice. Grazie